Cosa non si fa per amore, Uro Babbo? Un viaggetto tranquillo. Dove siamo? Siamo a Macuñaga, sotto il Monte Rosa. Va bene, adesso metto il telefono pro, eh. Ciao a tutti. Mi sto caccando addosso, come sempre. Un forno. Un forno. Un forno. Un forno. Un forno. Un forno. Grazie a tutti